Sono state 18 le aziende vincitrici del Clima House Trend 2013, un riconoscimento speciale istituito da Fiera Bolzano in collaborazione con il gruppo 24 Ore, per quelle aziende che in occasione di Clima House hanno presentato materiali o sistemi costruttivi in grado di coniugare tecnologia e soluzione formale. La graduatoria del 2013 è stata stilata dalla giuria guidata dall'architetto Fabrizio Bianchetti, che per ognuna delle sei categorie di prodotti o sistemi individuate ha premiato tre aziende a pari merito. Per la prima categoria, denominata Involucro Opaco, il premio Clima House Trend 2013 è stato conferito a Naturalia Bau per l'Interparete. Isolante minerale per l'intercapedine murale, utilizzato come isolamento e insufflaggio per l'isolamento energetico di intercapedine murale. Roland Cabas, il mio nome, sono direttore della Naturalia Bau di Mirano, provincia di Bolzano. Noi ci occupiamo di isolamento di tutto il gusso della casa, tetto, parete e solaio, prevalentemente e esclusivamente con prodotti e sistemi naturali. Siamo stati premiati qui al Clima House Trend con un prodotto per l'intercapedine muraria, applicazione che in Italia troviamo circa 11 milioni di abitazioni, dove tra il 1960 e il 1980 si pensava che l'aria in mezzo a questa intercapedine fosse o funzionasse come isolante. Nel frattempo abbiamo capito che quello che isola è l'isolante e non l'aria. Abbiamo studiato un sistema per sfruttare, per riempire questo vuoto con un prodotto naturale che si chiama intraparete, che è a base di una roccia vulcanica che viene insufflata all'interno di questa doppia muratura con un macchinario che mettiamo a disposizione.